Il sindaco Brucchi è fiducioso, in settimana sarà varato il nuovo esecutivo. Al centro per Teramo, duro documento, 18 punti per cambiare, ma Gatti annuncia, pronti a firmare la proposta di Brucchi. L'opposizione ed Alberto del PD, se il sindaco è d'accordo con Puglia adesso può solo dimettersi. Giulia Nova, restauro del lungomare monumentale, il comune cerca fondi. Istituzioni, prefetto e procuratore gettano le basi per una collaborazione di pezzi dello Stato sul territorio. Teramo Calcio, Zauli e Lupo alle finali primavera per scovare qualche giovane talento. Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione di Teleponte. In primo piano la politica che ci porta a Teramo. Dopo la commissione consigliare sul bilancio tenutasi questa mattina, il sindaco Brucchi si dice fiducioso per il passaggio in aula del prossimo 14 giugno. Sulla crisi di giunta, Brucchi ha ribadito che in settimana sarà varato il nuovo esecutivo ed ha giudicato positivamente il duro documento programmatico elaborato dalla lista civica al centro per Teramo. domani sera intanto alle 19 presso la sede del nuovo centro-destra, nuova riunione del tavolo politico di centro-destra. Vediamo. Partiamo dalla commissione bilancio che si è tenuta oggi, poi le spine della composizione dell'aggiunta le vedremo poi. Come è andata sindaco? Covelli ci ha detto che addirittura potrebbe trovare più voti di quelli che conta adesso la maggioranza quando il bilancio approderà in aula. Ma guardi, è un bilancio consuntivo, un bilancio preventivo che porta addosso i segni della crisi, ovviamente. Un consuntivo che comunque vede recuperare uno sbilancio, un recupero di oltre 5 milioni di euro. È un consuntivo che evidenzia come in questo anno abbiamo lavorato per tenere bassi costi fissi di gestione. Tant'è vero che abbiamo dal 2010 a oggi, abbiamo ridotto di 10 milioni di euro l'indebitamento di questo ente. È un dato importante. Oggi tutti i comuni sono indebitati, noi in 6 anni ne abbiamo ridotto 10 milioni di euro. Però è un bilancio di previsione che ha due grandi, grandi fari. La scuola, il trasporto scolastico, i servizi alla persona, la mensa e dall'altra parte l'assistenza, il sociale. Ci vogliono i numeri poi? Vabbè, sui numeri, guardi, io credo che tutti in questi giorni hanno, come dire, confermato il fatto che c'è la volontà di andare avanti e di chiudere questa legislatura nel 2019. Questo l'hanno detto tutti. Anche il documento ieri della lista al centro per terra... Duretto quello, però. Parla? Ma Duretto, guardi, è un documento condivisibile su quelli che sono i temi, diciamo, posti all'attenzione, i 18 punti, tra l'altro condivisibili e che sono condivisi anche con gli altri spunti che sono avuti da altre liste, perché molte cose sono anche simili. Allora la nuova giunta è fatta, tutto a posto? Guardi, la nuova giunta ci sarà entro questa settimana. Ovviamente non potrà non tenere conto anche delle liste, però è chiaro che la sintesi poi la devo fare io, come è giusto che sia, ma come anche è previsto. Ha stabilito il numero? Guardi, lo saprete al momento opportuno, quando nominerò la nuova giunta. Adesso ci rivediamo domani sera. Io metterò oggi, lavorerò per assemblare tutti questi, diciamo, suggerimenti che mi sono derivati dalle liste, ripeto, tutte condivisibili, anche quello degli amici al centro per teramo. Questo documento verrà posto all'attenzione poi della coalizione domani sera alle ore 19 e poi passeremo alla seconda fase che è l'organigramma. E oramai, diciamo è ora, c'è bisogno di avere un esecutivo, la città ce lo chiede e se lo aspetta e quindi questa settimana chiuderemo questa situazione. Angelo Puglia, capogruppo della lista al centro per teramo, ha consegnato ieri nelle mani del sindaco e dei rappresentanti del centro-destra il nuovo documento programmatico del gruppo che fa riferimento a Mauro Di Dalmazio. Un documento duro che fa le pulci alla maggioranza, rilevando che è venuto meno il vincolo di coalizione così come era sorto nel 2004. E poi una serie di paletti partendo dalla tema Bisogna novinare un nuovo vertice, dice Puglia, seguendo il percorso virtuoso utilizzato per la nomina di Forlini a Ruzzo. Sentiamo. Angelo Puglia, il vostro documento è un documento duro, però il sindaco dice che lo condivide in gran parte. Ma è un documento che va sulla discontinuità. Noi avevamo chiesto la discontinuità che non era solo riferita al discorso di Giunta, era riferita a un fatto di programmazione, era riferita a tutto e soprattutto discontinuità con quello che sino ad oggi è stato fatto. I punti principali, voi ne elencate 18, si parla di Team, Urban Center, anche del Ruzzo, si dice che Forlini sta lavorando bene, quindi mettendo da parte qualche appetito di qualcun altro. I punti principali, secondo voi, qualificanti di questo documento? Ma i 18 punti riteniamo che sono tutti validi. Sia quelli che hai indicato, l'Urban Center, penso che riporti la discussione in città sui progetti importanti. A noi quello interessa tantissimo. Come è stato nominato l'amministratore del Ruzzo, ci è piaciuto. Infatti i risultati sono ottimi e infatti diamo indicazione che si è ripetuta la Team. Chiedete il cambio di discontinuità anche alla guida della Team? Chiediamo anche la discontinuità alla guida della Team con una commissione esterna a valutare il curriculum. Quindi è altro cambio sulla gestione come è stato fatto sino ad oggi, ma anche la defiscalizzazione dei tributi locali per quelle aziende che assicurano l'occupazione, che non mi sembra un problema da poco. Domani c'è un nuovo incontro della maggioranza o comunque del centro-destra in comune a Teramo. Gatti, Futuroin hanno già detto che sono pronti a sottoscrivere il documento del sindaco. A noi ancora non ci viene comunicato niente e non sappiamo cosa hanno e cosa pensano del nostro documento, quindi stiamo in attesa. Se il sindaco ha condiviso il documento della lista al centro per Teramo, che ha evidenziato il fallimento della sua amministrazione, dovrebbe dimettersi. Lo sostiene il capogruppo del Partito Democratico, Gian Guido D'Alberto, che in merito al bilancio aggiunge siamo in una fase di predissesto e non era mai accaduto che un provvedimento così importante lo si discutesse senza neanche un assessore. Ascoltiamo D'Alberto. C'è stata commissione bilancio in comune, vi ha preso parte anche Gian Guido D'Alberto del PD. Il sindaco l'ho visto abbastanza contento e fiducioso per come è andata intanto questa seduta in vista poi dell'approvazione evidentemente del bilancio. Il sindaco continua a nascondere la polvere sotto il tappeto e a non rendersi conto della gravità assoluta della situazione in cui stiamo vivendo. Una commissione bilancio senza la Giunta, una cosa che non si è mai verificata. La Giunta ha approvato il bilancio il 30 aprile e poi si è stato azzerato, si è azzerata. Questo poi dipende dai punti di vista, ma è gravissimo che siamo senza un organo collegiale, l'unico organo competente, la Giunta, in un'cessione di bilancio. Ed è ancora più grave per il fatto che il comune, così come ha detto il dirigente finanziario e come hanno detto i revisori dei conti, è in una fase di predissesto, di sostanziale predissesto. Un comune sull'orlo del baratro e su questo baratro, su questo baratro che poi non è il baratro di Brucchi e dei suoi, non è il baratro del bilancio, ma è il baratro in cui rischia di cadere la città e i cittadini, su questo baratro stanno facendo giocare, stanno giocando un balletto politico veramente penoso e vergognoso. Secondo lei arriverà la quadra invece per quanto riguarda la ricomposizione della Giunta a questo punto? Ma io spero che i documenti siano finiti. Non si stanno occupando, non stanno pensando a quello che è il dato significativo dell'anticipazione di cassa. Noi ci troviamo, abbiamo chiuso il 2015, per colpa loro, di loro responsabilità politiche, con 11 milioni di euro di anticipazione di cassa da cui non siamo rientrati. C'è di debito. Oggi siamo a 16 milioni di euro. Dicevo prima sull'orlo del predissesto e si sta continuando questo gioco dei documenti, un ping pong di responsabilità delle quali nessuno può sfuggire. Ora abbiamo visto l'ultimo documento presentato dalla lista al centro per Teramo, che è la lista che fino adesso ha mostrato una certa coerenza perché è uscita dalla Giunta ed è uscita dalla maggioranza. È chiaro che da loro oggi ci aspettiamo un atto di credibilità, che non è sicuramente quello di fare un passo indietro. Anche il documento che hanno presentato, altro non è se non una condanna dell'azione amministrativa di questi anni. E allora delle due l'una. O il sindaco Brucchi rigetta quel documento e va avanti secondo la sua politica, ma se dovesse accettare quel documento, quelle critiche, quegli attacchi, attesterebbe e dimostrerebbe il suo fallimento. Si dovrebbe dimettere il giorno stesso. Guardate, oggi è in gioco la credibilità di questa politica, della classe politica. Loro l'hanno già persa. Io mi auguro che non la facciano perdere ancora di più una città che non merita questi amministratori. Come abbiamo sempre detto, l'agonia di questa amministrazione, purtroppo sta diventando l'agonia di questa città e Teramo non la merita. Siamo pronti a sottoscrivere il documento programmatico che il sindaco di Teramo ci sottoporà domani sera al tavolo politico. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale, Paolo Gatti, leader del gruppo consigliare Futuro In. Il gruppo consigliare di Futuro In è pronto a sottoscrivere il documento che elaborerà il sindaco. Che è così Gatti? Sì, nel senso che dall'ultima riunione è emerso che la gran parte delle sollecitazioni programmatiche dei consiglieri Futuro In dovrebbero rifluire nel documento unico, quindi con delle tempistiche, con degli impegni seri per la città. E quindi in quel caso è evidente che sottoscriveremo il documento. E poi si andrà alla composizione della nuova giunta. Lei è pronto come lista, ovviamente, come Futuro In, a perdere qualche assessore, un assessore? Noi abbiamo scelto in autonomia, non ce l'ha ordinato il medico. 20 giorni fa si sono ritirati i quattro assessori di Futuro In, proprio per dare un segnale di disinteresse rispetto all'occupazione dei poltroni. Quindi questo è assolutamente secondario. Può darsi che ci siano sette assessori di Futuro In oppure anche zero. Noi sosterremo l'amministrazione perché non intendiamo far precipitare la città nel caos di un commissario, sperando che ci sia un rilancio e un nuovo slancio. La questione degli assessorati è francamente secondaria. Se ci sarà chiesto un impegno lo valuteremo, se non ci sarà chiesto non fa niente, appoggiamo ugualmente. Condivide il documento presentato ieri sera dalla lista al centro per Teramo? La gran parte dei punti di al centro per Teramo erano anche nel documento che ha il sindaco della lista di Futuro In, la gran parte. Quindi per larga parte io condivido quel documento e offre anche degli spunti ulteriori di riflessione molto utili. Lei è convinto che dunque si uscirà in questa settimana da questa crisi, da questi impassi che ha bloccato l'amministrazione? Io non sono convinto di niente, nel senso che ho la ragionevole speranza che prevalga un senso di responsabilità e dopo questa parentesi che potrà rivelarsi eventualmente utile di riflessione e di ripresa di coesione ci si rimette a lavorare di buona lena nell'interesse della città. Confido in questo, ma ovviamente i protagonisti, come ho detto centomila volte, sono i consiglieri comunali, segnatamente i 21 che sono stati eletti sul programma del centro-destra e sul programma dell'attuale sindaco. Non abbiamo mai parlato della presidenza del ruzzo nel tavolo politico e noi non aspiriamo ad occupare quella poltrona. Lo ha detto Alberto Covelli, consigliere comunale di Teramo soprattutto, che ribadisce il giudizio positivo sul percorso seguito dal sindaco per uscire dalle secche della crisi di maggioranza. Sentiamo. Covelli, si susseguono gli incontri, anche i documenti dei vari gruppi politici, abbastanza duro, anzi sicuramente duro, quello di al centro per Teramo. Ieri l'ennesima riunione, la vostra posizione alla luce di questi ultimi documenti? Allora, la nostra posizione comunque rimane, come nelle riunioni precedenti, una posizione a sostegno del lavoro che sta facendo il sindaco. Ma anche per quanto riguarda questo documento presentato dal gruppo della lista civica al centro per Teramo, in fin dei conti ci sono argomentazioni condivisibili. Alcune sfaccettature possono essere condivise da tutti o meno, però in larga misura è un documento, a nostro parere, pienamente condivisibile. Il fatto positivo è che la sensazione che sta emergendo in queste riunioni è una ricompattezza del gruppo di maggioranza, forse addirittura ancora più forte del periodo preelettorale e questo lascia presagire che probabilmente si ripartirà e si ripartirà anche bene. Siamo contenti comunque per quanto riguarda il nostro gruppo che le nostre richieste, che comunque non erano richieste impositive, erano più che altro consigli verso il sindaco, sono state ben accettate dal sindaco. E per quello che si sa al momento il sindaco ha preso in considerazione alcuni aspetti da noi sollevati. Oggi c'è stata la commissione bilancio che è anche un grande scoglio, l'approvazione del bilancio. Il bilancio chiaramente sta per arrivare in aula, ma probabilmente, anzi quasi sicuramente, troverà un appoggio della maggioranza, troverà i numeri e auspichiamo anche che i numeri non saranno solamente i 17, ma ci sarà qualche altro numero in aggiunta. È vero che volete la poltrona del Ruzzo, del presidente Forlini? Ma io sinceramente questi sono argomenti che nelle nostre riunioni di gruppo non abbiamo mai affrontato. Quindi al momento non si è fatto assolutamente nessun discorso su poltrone, perché il nostro gruppo, lo ripetiamo, non è nato per richiedere poltrone, ma solamente per un supporto all'attuale amministrazione in vista di un futuro sicuramente migliore. E adesso lasciamo l'ampia pagina politica. Un giovane professore di Pescara è morto ieri pomeriggio in Turchia in un incidente avvenuto durante un'escursione nel distretto di Karasu, dalla provincia di Sakharia, a 200 km da Istanbul. La vittima è Alessandro Angelucci, di 34 anni, di Pescara. Insegnava all'Università Chieti-Pescara e si trovava in Turchia con un gruppo di studenti nell'ambito di un progetto di scambio Erasmus+. Angelucci è precipitato da un borrone e da un'altezza di circa 15 metri dopo aver perso l'equilibrio. L'incidente è avvenuto nella zona naturalistica di Coali di Angelucci. Prima di essere riportato in Italia, il corpo è stato trasferito ad Istanbul per l'autopsia disposta dal magistrato per confermare la dinamica della morte. Dalla sinergia tra uffici della Procura e Prefettura, si può avviare una concreta collaborazione sul territorio a specifico vantaggio della collettività. Ne hanno parlato il Procuratore Guerriero e il nuovo Prefetto Patrizzi nel corso della visita istituzionale in Tribunale. Vediamo. Visita istituzionale in Procura questa mattina del nuovo Prefetto Gabriele Patrizzi, che è stata ricevuta dal Procuratore Capo Antonio Guerriero in un cordiale scambio di presentazioni nell'ambito dell'incarico che ha portato l'alto dirigente dello Stato a prendere in mano la responsabilità del Palazzo di Governo in città. Dopo un breve colloquio negli uffici della Procura e un veloce incontro con la stampa, il Prefetto Patrizzi è stata accompagnata in un giro del Palazzo di Giustizia per le presentazioni di rito con i magistrati e il personale in servizio. L'incontro è servito anche per gettare le basi in un rapporto di collaborazione e sinergia, come è accaduto già tra la stessa Procura e altre forze dello Stato sul territorio. Sono certo di una proficua collaborazione istituzionale con la Prefettura, conoscendo la sua competenza, la sua conoscenza del territorio, essendo già, avendo esperienze presso l'approccio. E quindi sono sicuro che ci sarà con i magistrati del Tribunale e della Procura di Termo una proficua collaborazione nell'interesse naturalmente di questi territori. Sono certa di questo perché, a parte che nei ruoli dove sono state, nelle mie precedenti esperienze, sono sempre avuto un ottimo rapporto con i giudiziari e dunque sono certa, poi avendo delle tematiche in comune anche da approfondire, da vedere, anche se da diverse ambolazioni, io sono certa della disponibilità del Procuratore Guerriero che ringrazio veramente e con il quale sicuramente con la Procura, con gli uffici della Procura, sicuramente avremo un percorso da fare insieme e delle sinergie operative da mettere in campo, a vantaggio ovviamente della connettività. La parking Piazza Italia che ha costruito e gestito il parcheggio multipiano dell'ospedale di Teramo chiede all'ASL di Teramo attraverso un tegreto ingiuntivo 8 milioni e mezzo di euro. Sarebbe il valore del parcheggio come stabilito dall'accertamento svolto dal Tribunale. L'ASL aveva invece proposto un accordo da 3 milioni di euro. Dunque si apre un procedimento giudiziario tra l'azienda sanitaria Teramana e la parking Piazza Italia. In seguito ad alcune segnalazioni, la Ruzzoretti invita i cittadini a prestare particolare attenzione contro il rischio di truffe ad opera di sconosciuti che spacciandosi per dipendenti della società acquedottistica entrano nelle abitazioni con la scusa di dover leggere il contatore dell'acqua o riscuotere bollette. A tal proposito, la società ricorda che non effettua in alcun modo riscossioni a domicilio né con personale proprio né attraverso intermediari incaricati. La Ruzzoretti ribadisce inoltre che tutti i tecnici della società sono in possesso di un testerino plastificato con logo aziendale, foto e nominativo. Pertanto ciascun utente ha il diritto di pretendere la visione del cartellino e qualora avesse dubbi sull'autenticità dello stesso può contattare il numero verde della società 800 064 644 e le autorità competenti. L'amministrazione comunale di Giulianova partecipa al bando governativo per reperire fondi da destinare al restauro conservativo del lungomare monumentale. Vediamo. Lo vediamo tra poco. Intanto andiamo a vedere invece un'altra notizia che ci riguarda da vicino. Si parla della provincia di Teramo e di Confindustria. Ebbene, ieri nella sede di Confindustria Teramo a Santato si è riunita all'assemblea del gruppo Giovani Imprenditori per l'elezione del presidente e del consiglio direttivo per il triennio 2016-2019. Presidente del gruppo è stata eletta Antonella Ballone primo presidente donna negli annali del gruppo e dell'associazione che sarà affiancata dai consiglieri Gianmario Cauti Giovanna Di Dominicis Roberto Di Sante Alfredo Nepa ed Erika Rastelli. Antonella Ballone è vicepresidente del gruppo Baltura realtà industriale e leader nel settore del trasporto pubblico passeggiare di lunga percorrenza e di trasporto locale in autobus che negli anni ha creato la più fitta ed estesa rete di servizi e linee in autobus in Italia e in Europa. A sette anni dalla sisma dell'Aquila il palazzo Marchesale di Tossicia edificio storico simbolo dell'antica capitale della valle siciliana riapre al pubblico in occasione della festa della Repubblica del 2 giugno con l'inaugurazione della mostra della pittrice Naif annunziata Scipione alla presenza del delegato dell'ambasciata spagnola Juan Alcina de Aguilar e andiamo a vedere il servizio. Riapre un monumento a Tossicia il palazzo Marchesale Sindaco credo che è un buon punto di partenza per l'estate Sicuramente sì quindi come diceva lei riapre un pezzo di storia di Tossicia c'è il palazzo Marchesale e la parte della storia più importante di Tossicia è stato un percorso molto difficile perché subito dopo l'emergenza con la gestione della protezione civile non venivano finanziate le opere pubbliche e poi successivamente è nata l'UCR l'ufficio centrale per la ricostruzione dove si poteva cominciare a presentare dei progetti al momento che siamo arrivati al Dunque c'è stata la trasformazione in USRC ufficio speciale per la ricostruzione i fondi per le opere pubbliche per il riprescio delle opere pubbliche dai danni dal sisma erano pochissimi quindi io ho avuto l'assenzo al loro coordinatore dell'UTR numero 3 Alessandro Di Giambattista e gli altri sindaci dei comuni del cratere che praticamente hanno fatto un documento dove questa doveva essere la prima opera pubblica che doveva partire all'interno dell'UTR numero 3 quindi con quell'istanza mi sono regato all'ufficio speciale della ricostruzione dal famosissimo direttore esposito e hanno accettato pienamente questa richiesta che veniva fatta anche perché noi dovevamo riportare gli uffici comunali e riaprire il museo che è diciamo la parte l'accoglienza turistica di Tossicia e questo museo insieme ai murales di Tossicia abbiamo avuto un finanziamento pari a 1,2 92,500 i lavori sono stati consegnati giugno 2014 ci sono stati degli imprevisti in corso d'opera anche perché i lavori dovevano durare un anno poi praticamente si sono allungati un altro anno però diciamo che ci siamo riusciti il 2 giugno riapriamo riconsegnavo la cittadinanza a questo bellissimo palazzo Marchesale riapre anche una parte del museo che poi successivamente ci sarà un altro finanziamento di 200.000 euro della fondazione Dercas dove dobbiamo fare ancora dei lavori per il museo naturalmente a questa la riapertura di questo grande palazzo non potevamo mettere il fiore all'occhiello che era l'esposizione della nostra grande pittrice Annunziata Scipione di fama nazionale e quindi riapriamo con un'esposizione di 10 giorni con le opere donate al comune di Annunziata Scipione e da Tossicia ci spostiamo invece a Giulianova dove l'amministrazione comunale partecipa al bando governativo per reperire fondi da destinare al restauro conservativo del lungomare monumentale Assessore Guerlucci Assessore lavori pubblici c'è una importante iniziativa dell'amministrazione comunale per tentare di rivitalizzare questo bellissimo lungomare chiamato giustamente lungomare monumentale Sì, allora l'amministrazione comunale intende valorizzare il patrimonio della città di Giulianova partendo dalla propria storia e dalla propria cultura l'amministrazione comunale partecipa al bando del detto dal governo per finanziare luoghi da ristrutturare o comunque da recuperare con una proposta di progetto che è proprio Giulianova è il restauro conservativo del lungomare monumentale ovviamente nel perimetro di questo progetto sono inserite anche oltre a tutto il lungomare monumentale sono stati inseriti anche edifici piazze e parchi che sono adiacenti e sono strettamente collegati alle attività del lungomare e a una riorganizzazione o una valorizzazione dell'offerta turistica che a noi è tanto cara voi potevate scegliere tra altre cose perché c'erano altri beni da valorizzare ma avete operato sul lungomare che meritava questa maggiore attenzione diciamo che il lungomare siamo in vista di una stagione estiva e noi tutti abbiamo una grande cura abbiamo una grande attenzione insomma verso questa tematica del lungomare ma anche perché la nostra è una città di mare è nata come una colonia marittima e quindi anche questo aspetto non è l'unico comunque che poteva che poteva essere inserito il lungomare monumentale io penso che in questo caso sia una proposta giusta restiamo a Giulianova dove il sindaco Francesco Mastromauro chiarisce un aspetto molto importante non all'abbattimento dei pini di Viale Orsini le cui radici hanno di disse stato l'interromanto stadale lo assicura appunto il sindaco che sulla questione intende fare chiarezza sgombrando il campo da ogni dubbio c'è stato un fraintendimento dice il sindaco dovuto ad un banale errore di battitura nella mia prima dichiarazione sulla questione diffusa il 30 aprile scorso parla espressamente di rimozione delle radici dei pini nella seconda del 27 maggio è stato scritto invece rimozione dei pini evidentemente è saltato appunto per un errore di battitura il passaggio delle radici quindi i pini resteranno al loro posto la promozione dei corretti stili di vita soprattutto tra i più giovani può contribuire sensibilmente a ridurre rischi di una patologia tumorale e questa è la considerazione che ha spinto la Lilt Lega Italiana lotta ai tumori a firmare in regione due protocolli di intesa con l'ufficio scolastico regionale e con il CONI vediamo due protocolli di intesa siglati in regione tra la Lega Italiana lotta ai tumori l'ufficio scolastico regionale per le sue competenze e il CONI per la sua sfera di azione i documenti sono stati siglati a Pescara dagli assessori regionali Silvio Paolucci e Marinella Sclocco dal presidente della Lilt Marco Lombardo dal direttore dell'ufficio scolastico Ernesto Pellecchia e dal presidente regionale del CONI Enzo Inbastaro al centro del progetto la promozione dei corretti stili di vita soprattutto tra i più giovani che possono contribuire sensibilmente a ridurre i rischi di una patologia tumorale con l'ufficio scolastico la Lilt si occuperà di azioni volte a migliorare e a diffondere un sano stile di vita attraverso una serie di iniziative in tutte le scuole di ogni ordine e grado che coinvolgeranno gli alunni le loro famiglie i docenti i dirigenti e il personale amministrativo Continua la collaborazione tra la regione Abruzzo la Lilt il CONI il MIUR e continua questa collaborazione con il mondo della scuola perché è più utile investire a partire da piccoli appunto e soprattutto sulla prevenzione oncologica avremo modo oggi di sottoscrivere due ulteriori protocolli di intesa che vengono già da un'intesa nazionale ma che viene applicata per la prima volta in questa regione ed è aggiungere un tassello a già le attività di prevenzione che la Lilt porta avanti già per conto della regione promuoveremo ulteriori aspetti di collaborazione a partire sia dalla programmazione che dalla parte attuativa negli screening più livelli che si fanno appunto nella nostra regione e che vedono la regione Abruzzo finalmente crescere sull'aspetto della prevenzione fino ad arrivare vicino ma ancora manca qualcosa alle regioni migliori una festa della Repubblica importante e significativa quella che ci sarà bellante per tutti i ragazzi e le ragazze che nel corso del 2015 hanno compiuto 18 anni un appuntamento che si ripete anno dopo anno da ormai 4 edizioni e il battesimo civico si tratta di un momento nel quale i giovani festeggiano l'entrata a pieno titolo nella fase della vita nella quale ci si assume le proprie responsabilità si prendono decisioni e si a pieno titolo cittadini la manifestazione è stata organizzata dalla Proloco con il patrocinio dell'amministrazione comunale e si terrà nella sala consigliare Aurelio Staliceti dalle 10 e 30 momento centrale della giornata sarà la consegna ad ognuno di una copia della Costituzione Repubblicana i ragazzi riceveranno anche la pietra di Staliceti un fermacarte con impresso il volto del patriota e la frase la prima pietra del tuo futuro e la tessera omaggio della Proloco e da domani fino al 7 giugno si tiene a Giulianova il Festival delle Bande la Grande Kermesse sarà preceduta da un gemellaggio tra l'Italia e il Giappone Anteprima d'eccezione per la 17esima edizione del Festival Internazionale di Bande Musicali che si svolgerà a Giulianova da domani al 7 giugno la Grande Kermesse si apre domani con un gemellaggio tra l'Italia e il Giappone protagoniste della serata saranno due bande internazionali l'italiana Amaseno Marching Band che arriva dalla provincia di Frosinone e la Takigawa Wind Orchestra direttamente dalla città giapponese di Kobe lo spettacolo che si annuncia pirotecnico si terrà domani in piazza Dalmazia a partire dalle 21 prima però le due bande sfileranno sul lungomare Amaseno Marching Band ha un grande passato di banda tradizionale e da diversi anni si propone con una formazione di 70 elementi portando in Italia e nei festival europei uno spettacolo in cui esprime una grande energia sia sotto l'aspetto musicale sia sotto l'aspetto visivo il repertorio della Marching Band infatti è stato studiato per attirare l'attenzione di chi assiste e molte volte partecipa alle esibizioni la musica le divise e soprattutto il modo di essere banda sono di altissimo livello numeri superlativi anche per l'orchestra di fiati della Takigawa High School del Giappone che oggi è una delle marching band più apprezzate e conosciute a livello internazionale fondata nell'84 la banda si esibisce con un organico di circa 70 musicisti questa nuova edizione del festival si apre con uno spettacolo di straordinaria bellezza dice Mario Orsini presidente del comitato organizzatore ha testimonianza che questo evento è il più importante d'Italia tra i festival internazionali di bande musicali la manifestazione è organizzata dall'associazione culturale padre Candido Donatelli l'Abruzzo e l'Italia hanno una grande tradizione di musica per bande dice Gianni Tancredi vicepresidente del comitato organizzatore e grazie al nostro festival la passione dei più giovani cresce e con essa la conoscenza di un patrimonio culturale di inestimabile valore sarà il convegno donne e società che si terrà le ore 18 nella sala San Carlo del museo archeologico di Teramo ad aprire domani mercoledì 1 giugno Pink Teramnia notte rosa un evento dedicato alla donna e all'universo femminile organizzato da MZ Eventi in partenariato con l'università di Teramo e il patrocinio del comune di Teramo il convegno organizzato dall'università degli studi di Teramo con il coordinamento di Christian Corsi delegato del rettore per la notte rosa sarà un racconto a più voci di donne che ce l'hanno fatta sabato 4 giugno alle ore 21 domenica 5 giugno alle ore 18 e 30 e poi alle ore 21 la scuola di teatro Spazio 3 presenta tre spettacoli per l'appunto il meraviglioso mondo di oggi con Bulli di Riccardo Ciarrocchi Carla nel meraviglioso mondo d'oggi di Lucrezia della Noce e poi un esperimento geniale di Federica Ferri e adesso andiamo a vedere quali sono le previsioni del tempo per la giornata di domani con metoteramo.it Previsioni in Abruzzo al mattino nuvoloso sulle aree collinarie e montane variabile sulle aree litorane nel pomeriggio variabile con deboli rovesci di pioggia sulle aree subappenniniche variabile sui massicci appenninici e sulle aree costiere tra sera e notte poco nuvoloso temperature stazionarie massime comprese tra 20 e 23 gradi nelle conche aquilane e marsicane tra 25 e 28 gradi sulle pianure adriatiche venti deboli a regime di brezza mare quasi calmo in provincia di Teramo al mattino variabile su gran parte del territorio provinciale nel pomeriggio variabile con deboli rovesci di pioggia sui settori subappenninici moderatamente nuvoloso sui settori costieri e lungo la dorsale appenninica tra sera e notte poco nuvoloso temperature stazionarie massime comprese tra 25 e 28 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 23 e 26 gradi sulle coste venti deboli orientali mare quasi calmo poco mosso il teramo calcio in apertura Fabio Lupo e Lamberto Zauli sono partiti alla volta di Reggio Emilia per assistere alle gare della Final 8 del campionato primavera l'obiettivo è cercare qualche giovane da portare a Teramo e da valorizzare nella prossima stagione nonostante le smentite di rito il neo di esse continua a seguire con interesse Francesco Margiotta e Marco Guidone attaccanti richiesti espressamente da Zauli che li ha allenati a Sant'Arcangelo di Romagna nel frattempo dalla prossima settimana la società di via Oberdan si siederà al tavolino con i giocatori sotto contratto bisognerà capire le volontà dei vari calciatori e se hanno la giusta motivazione per restare ancora in bianco rosso sul fronte mercato inoltre c'è da segnalare l'interessamento del Cosenza per il capitano del Teramo Ivan Speranza e infine giovedì mattina con ogni probabilità verrà ufficialmente presentato Lamberto Zauli come nuovo allenatore del Teramo la squadra di casa del San Nicolò si è aggiudicata la seconda edizione del Memorial di Nobesso torneo giovanile organizzato per ricordare la figura dello storico segretario che ha fondato il club biancazzurro i ragazzi di Mr. Flavio Nocelli in finale hanno battuto 2-1 la Virtus Lanciano vediamo il San Nicolò si è aggiudicato la seconda edizione del torneo di Nobesso manifestazione sportiva di calcio giovanile riservata ai nati negli anni 2000-2001 categoria allievi che si è disputata sull'omonimo campo di San Nicolò a Tordino e organizzata per ricordare la memoria dello storico segretario che fondò la società biancazzurra nel 1968 e prematuramente scomparso 11 anni or sono nel 2005 la squadra di casa allenata da Mr. Flavio Nocelli ha superato in finale la Virtus Lanciano 2-1 al termine di una bella partita che ha visto un finale incredibile è accaduto infatti tutto nel secondo tempo il San Nicolò è passato in vantaggio a inizio ripresa con Leonzi ma in piena zona Cesarini il calcio di rigore trasformato da Di Nicola ha permesso ai rossoneri di pareggiare qualche istante dopo poco prima del fischio finale è arrivata la rete conclusiva di Porrini con uno splendido calcio di punizione dal limite che ha regalato la vittoria al San Nicolò San Nicolò che quindi finisce nel palmarès alle spalle del Pescara che l'anno scorso aveva vinto la prima edizione il club biancazzurro del padron di Giovanni è riuscito così a coronare un cammino straordinario che l'ha visto eliminare nell'ordine San Benedettese l'Aquila Maceratese e infine Virtus Lanciano tutte squadre che militano in categorie superiori al termine della gara si è proceduto con la cerimonia di premiazione alla presenza tra gli altri della sorella del compianto Dino Besso Anna Lucia del cognato Mario De Vico e del nipote Gianluca De Vico oltre al presidente del comitato FIGC di Teramo Egno Di Provido alla sorella di Dino Besso è stato consegnato un mazzo di fiori dal dirigente responsabile del settore giovanile biancazzurro Alessandro Di Agostino sono stati consegnati anche tre premi speciali Piero Tano della Virtus Lanciano ha ricevuto il riconoscimento come miglior portiere del torneo Riccardo Di Stefano del San Nicolo Calcio è stato premiato come miglior giocatore del torneo mentre Riccardo Pompei della Caldora ha ricevuto il riconoscimento come capo cannoniere Adesso il calcio a 5 Elasti Calcio a 5 si è giudicato gara 2 della finale Scudetto al Palazzo San Nicolò i piemontesi hanno battuto il Real Rieti ai calci di rigore i tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1 per effetto delle reti di Duarte ed Hector quest'ultima a 5 secondi dalla sirena conclusiva dai 7 metri sono risultate decisive le parate di Espindola che ha respinto le conclusioni di Raffina e Saul domani si replica per gara 3 si gioca sempre al Palazzo San Nicolò con fischio di inizio alle 20.30 e questa sera subito dopo il nostro telegiornale non perdete la puntata speciale di Biancorossi attraverso i servizi realizzati dalla nostra emittente riporchereremo insieme tutta la stagione del Teramo Calcio ed è tutto per questa seconda edizione del nostro telegiornale grazie per l'attenzione buona serata su Tele grazie per la visione